D'accordo con Pavimental abbiamo stilato un programma che prevede gli interventi sia sulla superstrada sia sulle rotatorie di accesso alla superstrada, quelle nuove in particolare, quella di Sant'Orso, ma anche quella di via Papiria. Inoltre inizieremo i lavori della rotatoria che servirà alla viabilità comunale tra via Papiria e via Mattei. Dunque quella zona di Fano nei prossimi mesi interessata da tanti lavori e quindi sono anche inevitabili purtroppo dei piccoli disagi, delle piccole deviazioni, piccole o grandi deviazioni, chiusure temporanee di strade per permettere alla Pavimental di fare da una parte gli asfalti dove le strade sono pressoché costruite e quindi chiudere e rifare la segnalettica. Dall'altra parte soprattutto nell'intersezione tra via Papiria e la strada comunale del campo di aviazione che poi diventa via Mattei per impostare il rilevato che servirà per costruire la rotatoria. Quello è, non c'è bisogno di dirlo, uno degli incroci più pericolosi della città di Fano. La rotatoria è necessaria e quindi prima si inizia e prima si finisce e dunque speriamo che i lavori possano giungere al termine anche questi prima di Natale. Siamo convinti che siano lavori necessari da fare il prima possibile per appunto raggiungere questi obiettivi. In particolare dal lunedì 23 settembre a martedì 24 settembre dalla 9 alle 23 sarà chiuso il tratto di superstrada in direzione Grosseto, poi giovedì 26 invece sarà chiuso il tratto che serve la viabilità per accedere al casello. Dunque una serie di attività che anche con la collaborazione degli strumenti di informazione cercheremo di dare passo passo in maniera tale che poi le persone possano anche crearsi una viabilità alternativa.